Circola in città un saldatore ignoto, il collettivo Pinelli utilizza l'arma dell'ironia per comunicare del nuovo tentativo di chiudere l'ingresso della scuola Foscolo di via Palermo per evitare che prosegua l'occupazione in atto dal 2 gennaio. Probabilmente per essere così silenziosa parterrà all'antico ordine peloritano ma di origine tibetana dei vigili scalzi, scrivono i Pinellini in un comunicato, attaccando poi senza giri di parole il sindaco Renato Accorinti. La Giunta è il primo cittadino in testa, dichiara il collettivo, continuano a non prendere posizione, legittimando implicitamente il saldatore ignoto con il loro silenzio colpevole. Siamo stanchi di un'amministrazione che non si assume le sue responsabilità politiche, continua la nota, siamo stanchi di metodi che vengono definiti subdoli e infami. Rimpiangiamo i tempi in cui gli sgomberi erano veri sgomberi, con tanto di sigilli ufficiali, elicotteri, navi militari e camionette antisommossa, almeno si faceva un po' di teatro. Riferimento quest'ultimo allo sgombero del teatro in fiera del febbraio 2013. Il sindaco Accorinti, contattato per una replica, risponde che delle saldature ai cancelli della scuola di Via Palermo non ne sa assolutamente nulla e che non è stato lui ad ordinarla. Si meraviglia poi del fatto che i Pinellini lo attacchino e non vogliano più dialogare con lui. Per quanto riguarda il giallo del saldatore ignoto, diciamo però agli occupanti della scuola che è presto risolto. A saldare i cancelli la sezione patrimonio immobiliare della Polizia Municipale, coordinata dal commissario Biaggio Santagati. A confermarlo il comandante della Polizia Municipale, Calogero Ferlisi, i miei uomini hanno fatto il loro dovere. Al di là delle visioni politiche, il bene rimane occupato abusivamente.